Siamo nel Backstitch Elisabeth Franchi e parliamo con Lorenzo Barcella di Coppola dei cappelli. Cosa hai fatto per questa sfilata? Salve, ciao. Il mood di oggi è molto minimale come potete vedere perché la collezione era abbastanza carica e ha il trucco pure quindi ha deciso dei capelli di tenerli molto minimali. Abbiamo usato del surf spray, acqua e sale e li abbiamo lasciati asciugare naturalmente. E se vogliamo copiare questo look a casa come dobbiamo procedere? Acqua e sale e lasciarti asciugare naturalmente. Più niente, fond, niente? Un po' di fond sì è possibile però il miglior risultato è sempre quello del naturale, lasciare asciugare al vento. Easy, easy. Easy, easy. È una tendenza per l'inverno prossimo questo? Il minimale sì, sì sì è una delle tendenze dell'inverno prossimo. Naturalmente bisogna avere il taglio giusto sotto in modo che i capelli si muovano bene. Il taglio giusto come sarebbe un po' scalato? Ma sì è scalato all'interno praticamente, meno nei contorni e più all'interno in modo che si creino dei giochi di onde sbagliate tipo oppure dei movimenti. Occorre un buon parrucchiere credo. Sempre, comunque. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.